Un anno e otto mesi di pena è la condanna inflitta dal giudice a un sessantenne bancario piacentino che nell'ottobre del 2018 era stato arrestato per stalking e sostituzione di persona. L'uomo aveva avuto una breve relazione con una 38enne che lo aveva lasciato. Lui non era riuscito a farsene una ragione e pedinava la ex presentandosi ovunque lei andasse. Per sapere i suoi spostamenti aveva installato un GPS sull'auto della donna e per seguirla si avvaleva di un cellulare sul quale aveva inserito una scheda SIM intestata a un uomo che a sua volta aveva avuto una relazione con la 38enne. L'insospettabile sessantenne era stato arrestato dalla polizia municipale. Oggi il piacentino è stato condannato a un anno e otto mesi di pena e al risarcimento di 8.000 euro per la 38enne e 3.500 euro per l'uomo al quale aveva sottratto i dati anagrafici.